Siamo in Heidelberg Italia ai Golden Silver Digital Days. Mauro Antonini, ci parli della strategia commerciale in ambito digitale? La digitalizzazione è parte integrante della strategia di Heidelberg nel mercato grafico. Partiamo dai nostri software Prinect che permettono di controllare digitalmente tutto il processo grafico fino ad arrivare alla stampa digitale. Oggi siamo in Heidelberg Italia, abbiamo l'esempio nel nostro Digital Center di tutte queste applicazioni, con tutte le macchine integrate. Partiamo, come dicevo, dai software Prinect che piloteranno le nostre macchine digitali, le VersaFire, che presentiamo oggi con l'applicazione Golden & Silver, e a completare Scodix, macchina di nobilitazione completamente digitale che chiude il processo di stampa. Rinaldo Matera ci parla delle VersaFire Ore e Argento. Ore e Argento sono i due nuovi toner speciali che si aggiungono ai cinque toner speciali della VersaFire EV. Quindi oggi, oltre al bianco, al trasparente, al rosso invisibile, al giallo e al rosa neon, abbiamo anche l'oro e argento. Particolarità dell'oro e argento insieme al bianco che possono anche essere messi sotto la quadricomia, così da creare degli effetti veramente wow negli stampati della VersaFire EV. È dotata di un controllo Heidelberg della famiglia Prinet, certificato per la 4.0, che consente anche alle piccole tipografie di avere la certificazione 4.0 all'interno della loro azienda. Le nuove possibilità applicative con VersaFire con oro e argento sono molteplici, da elementi molto commerciali, ma molto creativi, come ad esempio delle copertine che vanno a sfruttare questi colori speciali, fino a passare a materiali texture, quindi carte martellate, carte goffrate, dove otteniamo un'ottima copertura e dei bellissimi effetti. Un'altra cosa molto interessante, con la possibilità di stampare l'argento e l'oro sotto la quadricromia, riusciamo a ottenere una palette di colori metallizzati molto personalizzabile. In più, grazie a colori con una copertura molto elevata, riusciamo a stampare anche su supporti e materiali diversi, anche colorati e anche con colori abbastanza vivaci. Grazie a tutti, grazie a tutti.